Ciao, in questo video ti mostro il punto Margherita e delle varianti di esecuzione di questo punto. È uno dei punti base del ricamo, l'ho già mostrato in un video molto vecchio, che a dirla tutta era fatto un po' male, quindi ho deciso di aggiornare quel video e aggiungere delle nuove possibilità con questo punto, che permette poi di eseguire vari fiori, foglie, per fare piccoli ricami. Partiamo dal punto Margherita base. Per eseguirlo utilizzerò sempre il filo mulinè usato a un capo con il nodo alla fine. Parto da sotto verso sopra e creo il punto A, poi rientro in A, tiro giù l'ago, ma non del tutto, lascio un'asola. Poi creo il punto B, tiro l'ago su e in questo modo il cappio si girerà intorno. Ora bisogna fare il piccolo punto di sicurezza per fermare e completare l'esecuzione del punto. Ecco qua. Questa è la versione base del punto Margherita, eseguita in maniera classica. Ti mostro una variante per eseguirla in maniera più veloce. Quindi parto da sotto verso sopra e creo il punto A. Poi punto l'ago in A e lo faccio uscire in B, in questo modo. Tengo l'ago in questo modo. Poi tiro l'ago, quindi faccio girare bene intorno il filo intorno. All'ago tiro e faccio l'ultimo punto per fare la salda finale, questo piccolo punto di chiusura. Ed ecco qua la versione, diciamo, velocizzata. Questo è solo il primo modo per eseguire il punto Margherita. Sul retro si presenta così. Ora sul retro ho lavorato abbastanza male, devo dire, però in pratica si vede soltanto una linea dritta. Poi se lavori con i nodi o senza i nodi, a seconda di quello otterrai un retro più bello o un po' più disordinato. Ti mostro come chiudo il retro e farò così per poi tutti i punti successivi. E una volta fatto un piccolo nodo, prendo e taglio il filo in eccesso. Ti mostro ora la seconda variante, che è un punto Margherita facilitato. In questi esempi te l'ho mostrato proprio con due fili di colore diverso, in modo da renderlo più visibile in video. Ma ovviamente può essere realizzato anche con un unico colore. Infatti ora te lo mostro usando il viola. Parto dalla lineetta in alto, quindi vado da A a B e traccio questo primo trattino. Poi creo il punto C, da sotto verso sopra, e faccio passare l'ago con il filo sotto la lineetta, ma senza prendere la stoffa. In questo modo. Tiro, ma non troppo. E poi ritorno nel punto C. Eccolo qua. In questo modo è più facile eseguirlo, viene un po' più pulito, ma è un po' più lento da realizzare. Ovviamente la lineetta iniziale la puoi realizzare molto lunga o corta. È importante non farla troppo corta, se no nel passaggio in cui l'ago passa sotto, poi non ci passa. Quindi questa lunghezza deve essere in proporzione alla quantità di filo che stai utilizzando. Puoi rientrare nello stesso buco oppure leggermente a fianco, come ho appena fatto. L'effetto è leggermente diverso. Vediamo adesso come fare un'altra variante, che è il punto Margherita doppio. Quindi partiamo come abbiamo visto prima. Puoi scegliere di partire o nella maniera velocizzata, nella maniera tradizionale o in quella semplificata. Quindi ciò che conta è all'inizio avere il primo punto Margherita classico, normale. Una volta terminato, ora andiamo dentro il punto Margherita e ne creiamo un altro più piccolo. E creerò quindi anche un altro piccolo punto di salda finale. E vado a chiudere il punto. In questo modo il punto Margherita è riempito con un altro punto Margherita. E questo crea un bel effetto un po' più tridimensionale, denso e pieno. Ti mostro l'ultima variante, che invece è il punto Margherita ripassato. Il nome l'ho inventato io perché non ho trovato un nome ufficiale per questa variante. Quindi per non confonderlo con il punto Margherita doppio di prima, ho pensato che questo poteva essere chiamato ripassato. Quindi parto con un punto normale, punto Margherita classico. Dove però ho l'attenzione di tenere il punto di salda finale, questo, leggermente più lungo. in modo tale da ospitare un secondo giro di punto Margherita. Quindi ritorno nel punto in basso da dove parte il primo punto Margherita, da sotto verso sopra, e poi passo sotto la lineetta, in questo modo, e ritorno alla base. Puoi scegliere di ritornare esattamente nella stessa base, ma se vedi che fa resistenza, come in questo caso, puoi spostarti leggermente a sinistra. Il punto Margherita è uno dei punti base del ricamo. Io lo uso spessissimo e sul canale, infatti, ho già portato diversi video in cui utilizzo il punto Margherita o alcune delle sue varianti per realizzare dei ricami adatti anche a chi ha principiante. Ti lascio in sovraimpressione qualche video vecchio per dare un'occhiata e avere delle ispirazioni per realizzare i tuoi ricami. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like, un commento. Se ti va, puoi anche iscriverti al canale o seguirmi su Instagram. Mi trovi come vanessa.iello. In infobox c'è sempre la lista dei materiali che solitamente utilizzo e anche il link al mio sito, dove puoi trovare i miei corsi di ricamo, le mie guide di ricamo e altre informazioni, la newsletter, insomma. Grazie di aver visto il video. Ciao, buon ricamo!